Con me tu puoi fumare la tua pipa quando vuoi, perché mi piaci molto di più e sei così romantico. Oh, fumo blu, fumo blu, una nuvola è dentro tu, e poi, e poi, sei un uomo sado e fumo, ma sì, ma sì, è veramente un uomo. Aspetti, aspetti. Non ti arrabbiare, in fondo non ti ho neanche comprato il regalo. Senti, fai il piccolo ragionamento, noi ci siamo scusati il 15 dicembre di 19 anni fa, come ci si può appagare? Senti, fai il piccolo ragionamento non è mai stato addioforte, no? Ma cosa c'entra la matematica adesso? Parliamo della nostra vita. Scusate, ho una curiosità, te quanti anni hai? Come? È una semplicissima domanda, quanti anni hai? Allora, ad aprile ne farò parata due. Lo so che io. 41, ma non ci si può appagliare su certe modi. Oddio, non trattarmi come una ragazzina è fondosa, una donna di 41 anni, no? Ma lo serve veramente? No, grazie senza panni e senza zucchero, grazie senza guanta, sì grazie con zucchero, senza pane e senza zucchero, oh, grazie senza guanta e senza zucchero. Sì, 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 doveva, ma non ha fatto. E comunque, pasticcini, è scordibile, è molto gentile, la grazie. Ottimo, qui la pasticcina. Sì, grazie. Ha chiesto per caso responsabile il signor di Somma. Ma io ho chiesto, e aveva dato un problema, però non ha avuto tutta la relazione, fin da quattro non è arrivata la città tutta la vera, no? E che cosa vuol dire? Sì, mi passa la recezione. Salve, Michele, camera 719. Guardi, questa camera mi trovo malissimo, il bagno di Lasgolce l'ha avuto tutta la notte. No, no, non voglio un drama, voglio cambiare camera. Guardi, posso sfruttarmi subito? Poi tra l'altro mia moglie sta arrivando da Milano, sono certo che a lei questa camera mi piacerà. Eh? Ma chi? Mia moglie? Mia moglie è qui? Ma che si manda su una moglie così senza vestito? Ma che mi piaccia di stampare questa? Mi sono andata su qualcuno sulla casa? Fermatela! Non sono prende di matrimonio, non hai mai pulito un manco per me. Era tutto, no? Era ora che cominciassi. E io che faccio? Ma sai, forse, perché non fai tanto giù nel lavoro mentre io... Un mega valigione lungo 2,20 m di plastica rossa rinica, ma si può essere più deficienti? Ma beh, non c'è neanche il caso di prendersi un modiglio, non è due due valigio, no? Ma magari è più grande quella, eh? Per parlare cosa? Ma che ne so, può darsi che saltasse poi anche un bel vestito nuovo, un bel vestito più nuovo, no? Sì, che magari invece era la venigia più nuova e non sapevo che cosa farvene. Eh, vabbè, io credo, hai ragione. Marco? Eh? Perché non vieni sopra il letto? Basta, Susanna, non ce la faccio più. Ti devo dire una cosa. Dimmi, che sei un'unica, questo non lo metto in te. Ma lei lo fa da più bene, perché lo sai quando ci ha fatto il tuo padre, che lui ha ammazzato, hai capito? Franceschina? Facciamo una cosa che domani ti faccio nulla dei bambini buoni, ma adesso esce l'altro letto. Guarda, io ero qua, l'avevo il sedio. Sì. Franceschina? Ti rinchiudes? Nel cesso dell'oscena del hotel? Sì, sì, sì! Vediamo se ne è. Ecco. Francesca? Maria? Ecco qua. Guarda dal prossimo cino, sennò chiamano la dueciotto della me. Su, vai! Guarda! Scة! Ah! 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 Oh signor… Lo sapevo, lo screme! Lo sono, sto tocando le calanze! Grazie? Vuoi prendere Paolo come tuo legittimo sposo? Hai detto sì? Ah ha detto sì! Ne, ha detto sì! No, Maria, no, ha detto no Parlo con due colpi, due colpi! No, Maria, tu hai due corpi singoli, no, no, no... Con me tu puoi fumare la tua pipa quando vuoi perché mi piaci molto di più E sei così romantico Fumo blu, fumo blu, una nuvola è dentro tu E poi, e poi, sei un uomo saldo e fumo Ma sì, ma sì, è veramente un uomo E io troverò finché vorrai Proprio perché sei così